Michele Emiliano vince nella provincia Batte in maniera anche più convincente rispetto al dato regionale raggiungendo il 47,4% delle preferenze rispetto a Raffaele Fitto che non va oltre il 36. Ottima la prova del Partito Democratico che sfiora il 20% ed elegge due consiglieri regionali, il barlettano Filippo Caracciolo per lui oltre 11.000 voti e la tranisa è Deborah Ciliento che sfiora le 7.000 preferenze. Solo terzo è fuori dai giochi l'ormai ex consigliere regionale Ruggero Mennea che chiude a 5.500 voti. Proseguirà invece il suo lavoro in consiglio regionale il canosino Francesco Ventola, per lui oltre 8.000 preferenze, eletto nuovamente tra le opposizioni nella lista di Fratelli d'Italia. Si attende la ripartizione ufficiale dei seggi da parte della prefettura di Bari ma sembra ormai certo un seggio anche per l'Andriese Grazia di Bari, prima degli eletti nella lista del Movimento 5 Stelle. Il centrosinistra eleggerà sicuramente un altro consigliere regionale. In pole position c'è il barlettano Giuseppe Tuputi, primo della lista con Emiliano nella BAT. Attende il risponso definitivo della prefettura anche l'Andriese Sabino Zinni, largamente il più suffragato nella lista Senso Civico. Nel centrodestra a meno di sorprese rimarrebbero fuori sia l'ex sindaco di Andria, Nicola Giorgino, primo nella lista della Liga, che l'ex vice sindaco di Barletta, Marcello Lanotte, il più suffragato in Forza Italia.